Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati appuntamento con Il Fatto. La campagna elettorale per le regionali del prossimo 10 marzo in Abruzzo sta entrando nel vivo e lo dimostra anche la presenza di tanti leader nazionali sul nostro territorio. In questi giorni per lanciare la candidatura di Luciano D'Amico e anche una candidatura importante che riguarda proprio la sua forza politica nella città di Pescara è il leader di azione Carlo Calenda che noi salutiamo e ringraziamo per aver raccolto il nostro invito. Buonasera Calenda. Buonasera. A Teramo, Pescara, una serie di appuntamenti in Abruzzo perché in Abruzzo Calenda c'è una novità nel panorama politico e può essere anche un laboratorio nazionale, il cosiddetto campo largo è diventato realtà e perché lo è diventato? Glielo chiedo perché azione è stata anche protagonista di questa fase di composizione di una coalizione che poi ha trovato immediatamente, possiamo dire, l'intesa attorno a Luciano D'Amico. Ma guardi, per una ragione molto semplice, noi sul piano nazionale siamo distantissimi dal Movimento 5 Stelle, su tantissimi temi, e tuttavia qui c'è un elemento che è non trascurabile, anzi direi fondamentale, cioè la qualità del candidato. Luciano D'Amico ha una serie di competenze che sono molto difficili da trovare insieme perché è una persona che ha gestito molto bene tre aziende di trasporti decotte, rimettendole a posto. Ha gestito molto bene l'Università di Teramo, che era l'ultima o la penultima tra le università di città, di centri medio piccoli, e l'ha fatta diventare la seconda in termini di qualità. Terzo perché è un economista, e quarto perché è un uomo di cultura. Queste quattro cose insieme si trovano molto raramente. Siccome alla fine noi pensiamo come azione che la differenza in politica, l'unica differenza sensata, è quella di portare persone che sono in grado di far accadere delle cose, io penso che in questo caso, e solo in questo caso, perché noi non abbiamo mai fatto un campo largo, chiamiamolo così, noi pensiamo che con lui si possa fare la differenza. Poi però bisogna vincere e bisogna anche governare insieme. Questa è l'esperienza che potrebbe preoccupare di più, viste le vicissitudini passate all'interno delle coalizioni ampie. Io su questo ho un ragionevole margine di certezza. Perché? Perché il programma di D'Amico è molto chiaro. Intanto è veramente sovrapponibile al nostro. Noi avevamo elaborato un programma per le elezioni regionali, e una delle condizioni per fare questa alleanza è proprio il fatto che venisse recepito dal Presidente. Ed è un programma che ha al centro la questione sanitaria, la questione dei trasporti e delle infrastrutture, la questione della politica industriale e del turismo. E sono elementi, tutti elementi, su cui D'Amico ha competenze specifiche. E questo, guardi, io non finirò mai di ripeterlo. Cioè noi possiamo promettere rivoluzione agli italiani, gliel'hanno premesse i Cinque Stelle, gliel'ha promessa Salvini, gliel'ha promessa Lameloni, ma il tema è solo nella qualità della classe dirigente. Perché se no, come accade regolarmente in Italia, le migliori intenzioni, ma anche i proclami più altisonanti, finiscono assolutamente in nulla, nessuno riesce a realizzare niente. Allora ecco, noi abbiamo costruito azione su questa base, cioè sull'idea di lavorare molto sulla qualità della classe dirigente, che avesse esperienze prima della politica, di successo, e su un'agenda che è molto pragmatica e che non fa della lotta ideologica il centro dell'attività politica. Cioè, per essere molto chiari, se il governo Meloni porta un provvedimento che noi condividiamo, ed è successo, noi lo votiamo, anche dall'opposizione, perché viene prima l'interesse del Paese e poi gli schieramenti politici. Quello che è accaduto qualche settimana dopo la presentazione della candidatura unitaria di D'Amico in Regione, si è ripetuto per la città di Pescara, dove peraltro c'è un esponente di azione, Carlo Costantini, che guiderà più o meno la stessa coalizione, anzi arricchita da alcuni movimenti civici della città. Ecco, anche qui siamo di fronte ad un laboratorio politico. Pensa che possa esserci il primo sindaco di azione in Italia, uno dei primi, in una grande città del centro-sud. Anche nel centro-sud, noi abbiamo il sindaco a Siracusa, a Marsala, a Mazzara, no, no, ce ne abbiamo in Abruzzo. Si punta a vincere con Carlo Costantini, il sindaco primo turno? Sì, e di nuovo, ancora, la qualità della persona determina la coalizione, perché altrimenti all'inverso quello che succede è che noi ci troviamo davanti a persone che non esprimono una competenza gestionale, che diventano influencer, che è un po' quello che sta succedendo al governo. Al governo noi abbiamo una persona, Giorgia Meloni, che è bravissima nel raccogliere la pubblica opinione, nell'essere in sintonia con la pancia del Paese, come sono stati, ripeto, prima Salvini e i Cinque Stelle. È lo stesso proprio percorso. Cioè i Cinque Stelle sono saliti fino al 33%, poi sono crollati, Salvini è salito fino al 33%, poi è crollato. La Meloni andrà molto bene nelle elezioni europee, magari farà il 33%, ma poi crolla per una ragione veramente molto pratica. Gestire un ministero, io avevo lavorato alla Ferrari, a Sky, a NTV, cioè avevo molte esperienze gestionali, ma quando sono diventato ministro, gestire un ministero è complicatissimo. E se tu non hai altre esperienze di gestione, se non sei capace di governare gli uomini, i processi, far accadere le cose, non succede niente. Allora puoi fare molto rumore, ma poi all'al fine il rumore stanca gli italiani, perché dicono, vabbè, ok, ma la sanità, ma la scuola, ma la sicurezza, cioè l'immigrazione, era il cavallo di battaglia della Meloni, no? L'anno scorso abbiamo avuto il record di migranti che sono arrivati. Quindi devi saper far accadere le cose. Questo è il problema della politica italiana da 30 anni. La sanità investe per una regione circa il 60% di un budget, sarà uno dei temi fondamentali della campagna elettorale in Abruzzo. Cosa ci ha insegnato la pandemia nella gestione dei sistemi sanitari e soprattutto del ruolo delle regioni? In che cosa una gestione può determinare una svolta da parte della coalizione rispetto alle politiche che anche a livello nazionale si sono un po' declinate nell'ultima finanziaria del governo Bononi? L'azione è nata parlando esattamente quattro anni e mezzo fa parlando del crollo del servizio sanitario. All'epoca non interessava a nessuno. Tre mesi dopo ci fu la pandemia. È nata per una mia esperienza personale perché io ho avuto mia moglie che dal nulla un giorno ha scoperto di avere una leucemia poi un tumore al seno è stata curata in un ospedale pubblico e il suo medico mi disse queste cure in America sarebbero costate un milione di euro. Io mi occupavo di sviluppo economico prevalentemente di economia e lì mi resi conto però che la cosa più preziosa che abbiamo è il diritto alla cura e lo stiamo perdendo perché negli ultimi vent'anni tutti i governi compreso quello di cui io ho fatto parte hanno investito sul Fondo Sanitario Nazionale meno del tasso di inflazione. Vuol dire che oggi noi abbiamo una spesa pro capite sulla sanità che è la metà di quella tedesca. la metà di quella tedesca. Allora noi dobbiamo fare due cose. La prima è investire tutte le risorse che abbiamo sulla sanità. Io ho detto a Giorgio Ameloni è inutile che tu fai un taglio dell'IRPEF che dà 16 euro a italiano se poi quando quell'italiano deve andare a fare una TAC non ha la possibilità di farla o se deve fare un intervento chirurgico oggi sono 10 milioni di prestazioni in arretrato. Io per esempio avevo proposto una cosa molto semplice. Siccome il diritto alle cure è un diritto costituzionale per quanto riguarda le TAC oncologiche le analisi tutte le analisi che hanno un rischio diciamo di scoprire Dio non voglia un tumore o interventi gravi che lo Stato non riesce a erogare il cittadino deve potersi curare dove vuole e venire rimborsato perché altrimenti la gente muore o non si cura più e questo non funziona non funziona in Abruzzo dove ci sono 100 mila persone che non si curano e 100 milioni di euro che vengono pagati dalla regione per far curare i propri cittadini cioè gli abruzzesi in altre regioni quindi questo a livello nazionale a livello locale c'è un tema che è predominante la sanità pubblica è completamente politicizzata cioè non ci sono strutture dove i manager non siano di derivazione prettamente politica e questo è devastante perché l'efficienza della sanità pubblica sta scendendo giorno dopo giorno allora va fatto un lavoro per il quale io l'ho fatto al ministero sulle assegnazioni degli incarichi non li decidevo io ma prima venivano analizzati da un magistrato da una persona che si occupa di ricerca del personale e da un grande manager perché se noi non facciamo con criteri meritocratici questo la sanità l'efficienza della sanità pubblica è destinata a sciogliersi abbiamo detto che la sanità investe il 60-80% del budget regionale sappiamo che l'Abruzzo è una regione a metà tra il nord che ha proprie risorse e il mezzogiorno che soffre che scenario si apre se passa l'autonomia differenziata su questo e su altri temi nessuno perché non passa l'autonomia differenziata è una grande presa in giro e fa capire cos'è la politica in Italia perché la legge che ha passato il governo dice esattamente questo che ci potrà essere l'autonomia differenziata quindi la delega di competenze nazionali alle regioni sulla base delle richieste regionali solo ed esclusivamente quando verranno finanziati i livelli essenziali delle prestazioni che aiutino diciamo a riequilibrare sulle prestazioni fondamentali compresa la sanità il nord con il sud ora il finanziamento di questi livelli essenziali delle prestazioni costa circa 100-150 miliardi di euro non ce li ha nessuno non sono previsti quindi è un totale blef del governo e serve alla Meloni per dire a Salvini guarda ti do uno spot elettorale per le europee e in cambio tu voti il premierato questo è fine è una gigantesca colossale presa in giro dei cittadini italiani quindi non passa neanche il premierato ma il premierato sa è una cosa che non ha nessuno nel mondo cioè noi italiani dobbiamo abituarci a pensare che quando immaginiamo un sistema istituzionale andiamo prima a vedere cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato il premierato lo ha avuto Israele per mi pare due legislature e poi l'ha cancellato perché perché vede il problema anzi facciamola più semplice cosa sarebbe successo nella scorsa legislatura col premierato i 5 stelle avrebbero vinto col premio di maggioranza Luigi Di Maio sarebbe diventato presidente del consiglio di un governo monocolore dei 5 stelle dopo un anno i 5 stelle avevano dimezzato il consenso alle europee quindi avremmo avuto un governo sostenuto da il 15% degli italiani anzi degli italiani che vanno a votare quindi dal 7,5% degli italiani complessivi e avremmo avuto Luigi Di Maio per 5 anni presidente del consiglio e io penso che l'Italia non sarebbe sopravvissuta perché vede il problema è che i governi italiani cadono per incapacità delle compagini di governo di rispettare le promesse folli che fanno e noi non possiamo risolvere questo problema dicendo se un governo è completamente incapace rimane in carica anche se distrugge il paese perché questo non è sensato noi dobbiamo invece trovare un sistema affinché i governi che vanno siano fatti da persone più capaci con programmi più concreti e meno ideologici o promesse meno strombazzanti calenda lei che questi dossier ovviamente li conosce a che gioco stanno giocando Stellantis e il governo italiano in queste ore e soprattutto chi rischia di vincere e chi rischia di perdere ma abbiamo già perso in splendida solitudine sono esattamente cinque anni dalla vendita di Magneti Marelli anzi sei anni che da solo sto dicendo attenzione gli Elkan stanno abbandonando l'Italia oggi la produzione di autoveicoli rispetto a quando io ero al governo e c'era Marchion è calata del 30% in Italia e la cosa più scandalosa di tutte che i cittadini devono sapere è che durante la pandemia noi abbiamo dato 6,3 miliardi di euro di garanzia agli azionisti della Fiat per pagarsi un dividendo da 2,9 miliardi di euro in Olanda per vendere la Fiat ai francesi e oggi quello che succede è che Stellantis è francese nessuno ha chiesto a Elkan di rendere conto degli impegni che aveva preso all'epoca quando gli abbiamo dato la garanzia Elkan non ha parlato mai di fronte ai ricatti che Tavares sta facendo all'Italia che sono sostanzialmente vi chiudiamo le fabbriche se non ci date i soldi di questa cosa non ha parlato nessuno e non ha parlato nessuno perché Elkan ha comprato La Repubblica che è il più importante giornale di sinistra e per aver detto questo Repubblica e La Stampa non mi hanno più fatto un'intervista per sei mesi e questo è esattamente quello che non va in Italia cioè il fatto che non si parla delle cose serie perché si parla di Chiara Ferragni di quello che dichiara Salvini di quello che dichiara La Meloni di quello che dichiara la Schlein sono tutte cavolate se noi perdiamo l'industria della automotive noi perdiamo un'industria che si porta dietro una catena di fornitura gigantesca non sono solo 40.000 posti di lavoro sono 200.000 posti di lavoro e 200.000 posti di lavoro pregiati perché sono grandi aziende che innovano e noi non possiamo cedere all'idea che Tavares possa venire e dire o mi date ogni anno un miliardo di contributi perché sono pieni di l'Italia piena di imprenditori che stanno in Italia combattono esportano e non chiedono allo Stato di dargli dei soldi quindi adesso quindi fa bene il Ministro Urso a forzare su quel piano che ha presentato allora il primo di tutto nessuno ha presentato un piano cioè tutta questa discussione surreale dimostra che questa classe dirigente Urso compreso non ha mai lavorato un giorno in vita sua in un'azienda perché la prima cosa che tu devi fare è chiedere a John Elkan come io ho chiesto di venire in Parlamento di spiegare il piano industriale di Stellantis per ciò che concerne l'Italia il piano ad oggi non il piano se gli diamo altri 10 miliardi di euro o 2 miliardi di euro poi negoziamo e quello che farei è negoziare quanti posti di lavoro in più mi dai se io faccio un grande incentivo sulle macchine elettriche ma dopo negozi questo prima io voglio sapere a oggi qual è il piano della Fiat di Stellantis scusate e lo deve dire Elkan perché Elkan è la persona a cui abbiamo dato la garanzia che si è pagato 2,9 miliardi di dividendo e noi non abbiamo il coraggio di chiederglielo perché abbiamo una forma di reverenza verso la famiglia Agnelli che è assurda e lo dice uno che ha lavorato 5 anni in Ferrari che conosce perfettamente la famiglia Elkan con cui non ho nessun motivo di rancore personale ma non è accettabile questo atteggiamento si rimproverà qualcosa a proposito dell'ex Ilva altra situazione che sta scoppiando io mi rimprovero in questi giorni io mi rimprovero di aver pensato che l'Ilva potesse rimanere aperta in un paese dove si parla di industrie e tutti vogliono chiudere le industrie per essere molto chiari è il primo caso nella storia del mondo ma del mondo in cui si fa una gara vince il primo produttore mondiale d'acciaio con un contratto blindato la sorveglianza dello Stato per 5 anni l'impossibilità di licenziare un operaio con penale di 150 mila euro a operaio 4 miliardi e 2 di investimenti confermato dal governo Conte 1 fatto saltare dal governo Conte 2 questa è una follia delirante del paese e non basta perché Conte dopo aver fatto saltare il contratto blindato a quel punto doveva nazionalizzarla Ilva invece cosa ha fatto ha fatto una società in minoranza committa è una storia da pazzi cioè il nostro problema non è il debito pubblico il deficit il nostro problema è che siamo matti capisce? cioè vista dall'esterno ma in entrambe queste situazioni noi faremo bene a prendere delle quote come Stato italiano in entrambe le situazioni vede è la classica discussione assolutamente inutile e le spiego il perché Elkan lo Stato francese e Peugeot hanno di fatto la governance dell'azienda che vuol dire che controllano il consiglio d'amministrazione se io domani compro lo Stato italiano compra il 5% dell'azienda non cambia niente perché o tu sei in un patto di sindacato con loro per gestire l'azienda o stai fuori dal consiglio d'amministrazione e non conti nulla ma siccome questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio e nessuno di loro ha gestito o lavorato prima della politica parlano di cose completamente a cacchio cioè se lo Stato italiano domani compra il 6% come lo Stato francese di Stellantis quelli gli dicono ma il consiglio d'amministrazione noi abbiamo la maggioranza voi state fuori e non decidete niente allora qui la questione non è prendere e buttare 6 miliardi di euro per comprare una partecipazione che non conta niente qui la questione è portare Elkan a parlare di un piano industriale e io sono molto contento che finalmente la questione oggi è una questione pubblica e accuso Landini di non averne parlato Landini attaccava Marchionne quando la Fiat produceva il 30% in più e comprava la Chrysler e Landini diceva che era una delocalizzazione quando compravamo la Chrysler e ha detto che era una grande operazione la vendita della Fiat a Stellantis perché? perché è più interessato a quello che gli può dare Repubblica come giornale di sinistra e alla sua ipotetica carriera politica che è questo e non va bene quindi parliamo di cose concrete con consapevolezza non diciamo idiozia a vanvera se lo Stato italiano compra un pezzo della quota ristellante sul mercato non conta niente come non conta niente adesso prima di salutarci una domanda sulle prossime europee lei probabilmente credo sia l'unico leader di grandi partiti che è stato parlamentare europeo in questa consigliatura che viene rinnovata ed è l'unico che ha esplicitamente detto che non si ricandida gli altri lo faranno? sì per prendere in giro i cittadini perché in Europa non ci possono andare cioè lei capisce com'è ridotta l'Italia? è un paese dove Giorgia Meloni si candida perché si chiama Giorgia Meloni sapendo che non ci andrà come lo farà Elislein come lo farà alla fine Matteo Salvini come lo faranno tutti senza andarci per cui è una presa in giro dicono votatemi tanto io poi non ci andrò però votatemi e io credo che i cittadini dai cittadini debbano venire una risposta in cui ci sai che c'è se ti candidi e mi prendi in giro io non ti voto perché mi sono stancato di politici che dicono che faranno una cosa si fanno votare e non la fanno bene grazie grazie a Carlo Calenda grazie ovviamente in giro in Abruzzo in questi giorni per la campagna elettorale di Luciano D'Amico e già per Carlo Costantini per il quale naturalmente tornerà in primavera grazie ai nostri telespettatori buon proseguimento di serata arrivederci